Dei viti e della musica, degli inni, viene detto che viene da Antiochi, Antiochi di Siria, che oggi è in Antiochi. E a proposito di Sant'Effizio e della Siria, il pensiero di non andare alle popolazioni che in quei luoghi, e negli altri partiti del mondo soffrono, vivono la guerra, la fame, la miseria, le disperazioni, tutti legati a fenomeni tragici come bombardamenti, guerre che devastano gli interi popoli. Non faremo onore al Santo, alla fede religiosa, se non ricordassimo il problema della Siria, bisogna avere un pensiero, un aumento, non solo per i propri problemi, ma anche per i propri che vivono altri in altri luoghi dal mondo. altrimenti dice proprio no, se non siete felici, e se non sono felici di altri, a crescere il mondo difficilmente si riesce a essere felici da noi. Grazie.